Ed è grazie alla tenacia che la campagna è già il vostro più bello del mondo. Con i nuovi progetti di mia ideazione diventerà il fenomeno del terzo millennio. Il primo dei progetti con tenacia, per dirne uno a caso, è il ponte di cristallo sulla foce del Sarno. A Rotterdam lo farebbero in un mese e noi lo faremo nell'arco di una pausa pranzi. Il Sarno è il fiume più inquinato d'Europa, ma entro il 2025 l'acqua non la faremo diventare pulita. No, con la tenacia l'acqua la faremo diventare soluzione fisiologica per l'Eflebo.